Che a te piacciono più quelle pelose? Questo è Figli delle Stelle, alla mia destra, oh! Viola! E ancora più a destra, Costanza. Bentornata, Costanza. Grazie, grazie. Oddio, qual è il RL? Ah, ma dove c'è il filo, di solito è a sinistra. A sinistra. Oddio. Oh, che bello sentire la voce di Coco. Parla. Da quanti anni? Da quanti anni? Allora, ¿Está bien? ¿Estamos partidos? Esto es laña en Barcelona, que me enseñó lo español. ¿Cómo puede escuchar? Questo è stato i mesi e mesi in Cina. Deve essere un appuntato sulle lingue non imparate mai in giro per il mondo, perché l'inglese comunque è studiato alle elementari, alle medie, al liceo, alle superiori, eppure, I love you, si dice, tutto il resto, più difficoltà. I love you. Beh, Coco, tu hai fatto... Beh, no, io dai. Anno in Australia, uscivi con i tipi, con Google Traduttore. Il primo appuntamento, Google Traduttore. Che divertente. Lui si è divertito una cifra, tra l'altro. Non so che si è innamorato di me, ovviamente. Allora, lingua in bocca subito, Costanza, non parlare, non mi serve la tua voce, mi serve il tuo fuego. In Australia, tra l'altro, questo. Esattamente. Carino. Questa era una certezza, tra l'altro. Brava, perché oggi, amo, sarà detta tipo 800 volte questa parola oggi. Allora, benvenuti a Costanza e benvenuti tutti i nostri ascoltatori su Twitch e quelli che ci ascolteranno su Spotify prossimamente. Questo è il figlio delle stelle. Il programma del venerdì, insomma, lo stiamo un attimo ricarburando, perché cosa è successo? Oggi, insomma, non ci sentiamo da un po', purtroppo, per i pignitari, cose, poi insomma, siamo una volta ogni due settimane e oggi non abbiamo la presenza di Carolina che, insomma, le facciamo un grande in bocca al lupo, è andata a Londra a fare un master e poi tornerà, insomma, però era un gran pezzo forte la novità di quest'anno con i suoi tarocchi, ma, insomma, che non mi hanno mai letto alla fine, sono venuta, ho provato, niente. Ma Carolina tornerà e sicuramente, quindi ci segue anche adesso la salutiamo e Beccia, perché per un romantico weekend, no, weekend fuori porta e quindi partiva oggi e ci ha lasciate da sole, ma va bene. Abbandonate. All'inizio eravamo un po' preoccupata, mi hanno detto ma passiamo alla puntata a dire amo, amo. Ancora non l'abbiamo fatta, quindi probabilmente sarà così, un po'. quelle situe nuove, cioè, insomma, Coco, grande figlia delle stelle dai tempi, però era da un po' che non c'era. Quella che c'è sempre sono io qua e poi voi arrivate, ve ne andate, ma io sono contenta. La certezza. La certezza è il tema di questa puntata. Viola una certezza di figli delle stelle. È vero, è vero, così c'è la testa di Astro Radio e è un po' il fatto che siamo abituati ad avere le nostre certezze nella vita, un po' in generale, cioè, dalle mentari ad adesso, che siamo, possiamo dire, nell'anno dei 25 anni, che come ci ha tenuto a sottolineare il nostro caro amico Beccio, sono 26 ormai. Non ne vogliamo fare una puntata di vecchiaia? No. Assolutamente no. Assolutamente no. siamo giovani e focose, ma una puntata sulle certezze che a un certo punto, quando ti vengono tolte, tu pensi di essere una persona sicura, carica nella vita e ti tolgono una piccola certezza e impazzisci. Impazziamo, impazziamo. E quindi oggi è un po' l'analizzare tutte quelle certezze per essere più consapevoli e poter andare avanti nella vita come, come fa, cioè, in modo tale da farcela, niente di speciale. I nostri capisaldi. I nostri capisaldi. Allora, iniziando da quella sensazione di abbandono che hai all'elementare o alle medie, no? Quando finalmente il primo giorno ti mettono, ti accoppiano con un banco. O scegli tu il banco addirittura il primo giorno e poi dopo un po' arriva la fregatura. Bam! Il giorno in cui se fate casino cambiamo i banchi. No! Però dovete conoscervi tra di voi, non potete stare sempre con gli stessi. Che brutto, è verissimo, perché allora era bello quando casualmente finivi di fianco al ragazzo che ti piaceva, che comunque era imbarazzo, cioè dovevi andare a scuola e l'elementare già i sbatti, invece di fianco alla tua amica era una festa, però facevi casino. Quindi poi c'era il cambiamento di banco, brutto, quando ti mettevano di fianco a un antipatico o comunque quelli simpatici erano o troppo avanti o troppo indietro e passavi la lezione così a guardarli di monota e non ridete senza di me. Bello anche lo switch con la secchione a fianco che almeno serviva qualcosa. Ma i secchioni servono se ti aiutano. Se ti aiutano, è vero, perché c'erano quelli che mi ricordo che facevano gli astuccetti, avete presente tipo gli astucci quelli apribili? Quelli a tre piani. Ne mettevano due, uno sopra l'altro e durante la verifica arrivavamo proprio con due astucci rubato anche al fratello, magari ne mettevamo uno sopra l'altro e tu non vedevi niente. Astuccio, astuccio raccoglitore e anche un po' scocciati tipo e la mano e la mano mi hanno fatto bene perché altrimenti avrei davvero copiato tutto. Comunque bisogna anche saper copiare adesso. Siamo riuscite ad arrivare alla fine dell'università quindi in qualche modo ci abbiamo fatto. Grazie Dio. Altra certezza che c'è un po' andando avanti negli anni, qual è il vestiare? Possiamo iniziare così da questa cosa? Cioè oggi un po' il tema si non delle certezze vecchie perché ormai quelle ce le siamo diciamo accollate nel senso basta compagnie di banco è una cosa passata superata i drammi ci sono stati e sono anche passati quelle certezze che ti vengono tolte adesso e non sei preparato o quelle che hai già consapevole di non averle più ma che adesso già è proprio Poi ora me ne vengono in mente miliardi in più di quelle che che abbiamo un po' così visto miliardi ma anche solo tipo il kajal il kajal il kajal era una certezza la matita sotto dentro all'occhio che ormai nessuno mette più però era una certezza il kajal è un una matita una matita una matita forse per l'interno perché rimane di più è vero il trucco il trucco al liceo me ne è male che alcune certezze sono cadute cioè per carità io mettevo la matita azzurra la collina con gli smarties quella bella quella bella ci sono delle cose tipo magliette che mettevi al liceo no? in cui ti sentivi da figa canotta di aver crombi che per un certo periodo ho detto vabbè non la metto più perché tanto non è più cool però ce l'avevi lì no? comunque in casi estremi ce l'avevi andava bene ce l'avevi lì te la mettevi io mi ricordo quelle di brandy subdued che erano tipo brunettes are adored blondes are ignored 100% brunette the best girls are from Milano oh Coco che arrogante aiuto esatto quelle che secondo me per un po' dopo il liceo c'era una certezza al liceo mi metto quella oggi va bene il mio non so il mio fashion lo porto con stile però cioè ti sentivi forte quegli indumenti con cui ti sentivi figa potevi affrontare tutto che hai tenuto per un po' e a un certo punto cioè in questi anni ti sei accorto che forse è il momento di buttarli sì cioè basta che non puoi bisogna fare spazio a cose nuove sì ma è proprio che dici ho raggiunto quell'età o quel momento della mia vita in cui non posso più mettermi cento per cento brunette perché sembro scema anche se già è passata l'era però ogni tanto la mettevi per fare un po' così poi sono diventate prima secondo me di essere eliminate sono diventate le magliette di casa brava le magliette di casa le magliette di casa che dici vabbè dai mi sento ancora un po' giovane posso ancora mettere tanto sto in casa nessuno mi vede o comunque quella maglietta di casa che se per caso dovesse passare qualcuno è una cosa simpatica la butti sull'ironia ecco quando anche smette di essere ironico o simpatico è il momento proprio di gettare tutto quello che no è brutto è un trauma e secondo me questa è un po' l'età in cui noi stiamo gettando l'età la crisi del mezzo secolo la crisi del mezzo secolo sì dei 25 anni che noi 26 anni quasi 27 anni stiamo arrivando dopo perché covid eccetera si è state bloccate quindi io mi sento ancora 25 anni ma anche 20 anni guarda però c'è proprio quel momento che lo vedi anche in radio no? ci sono una serie di programmi adesso nuovi programmi molto belli condotti da gente che ne ha 18 di anni altri condotti da gente che ne ha 30 tu sei in mezzo sei un po' in quel limbo il riassunto di questa era è dove va la mia vita boh cioè vado alle feste con i 18 anni o vado a dirmi siamo comunque una generazione di incertezze ma proprio la nostra cazzo di cane proprio la nostra per citare chi è nato nel 95 quella ma sì cioè è vero è vero però alla fine anche 96 dai 96 ai 93 possiamo dire che il 94 è andata peggiore sì non lo so no è un po' questa sì questa cosa a cazzo di cane per cui tu sei spaisata completamente completamente cioè non stai davvero ti svegli e pensi e non lo so il lavoro mi piace cioè finché fai l'università sei focalizzata sull'università una vita piena di speranza e di felicità non vedi l'ora di finire ma cosa non finire l'università è una bomba cioè questa cosa che finisce cioè proprio è un dramma sì è un dramma ma tu non lo sai prima non lo sai è bene così ovviamente te la godi però non sei neanche in quel momento dove sei abbastanza consapevole delle pieghe che hanno preso la tua vita e quindi te la godi no sei qua ti dici ma che faccio un podcast su a stradio il lavoro che è un podcast su a stradio sì questo facciamo un po' così no vieni qua un bicchiere di vino neanche una cosa seria c'è un bicchiere di vino di cosa parliamo boh vediamo un attimo è tutto un vediamo piano vediamo vediamo cosa succede domani domani vediamo ti faccio sapere fra poco domani vediamo infatti è sempre qualunque domanda e ti faccio sapere ci sentiamo ci aggiorniamo ci aggiorniamo ci aggiorniamo ci sentiamo dopo capiamo alle unici non puoi metterti in accordo per la sera stessa no ma poi ci aggiorniamo e perché ora non ci puoi pensare perché stai guardando una serie tv che si chiama Emily in Paris cioè che è vittorio rendiamoci conto di tutto quanto non c'è la forza fai basta ok questa non è un puntato solo la depressione no però sta diventando lo sta diventando ma sì perché in senso secondo me è una situazione in cui ci si ritrova in tanti poi alla fine quando decidi anche qualcosa da fare ti senti quasi fiero no di dire ok cambiamo bar sì e alla fine sei a bere una birra in un bar dove magari non sei andato per un mese quindi sembra una novità no però cioè non neanche puoi dire prendiamo in mano la nostra vita vai un po' piano un po' tentoni e alla fine cioè ti diverti va bene cioè va bene così poi non è vero le cose le facciamo non stiamo dicendo bla 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 vediamoci questa età ha 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 è un po' fatto sta che la puntata di oggi ma a che ora abbiamo iniziato ci sono già fece cosa a dire lunghissima aiuto vediamo un po' di wine no abbiamo un sacco di cose da dire questo posto è diventato una certezza sì ora le buttiamo dentro tutte no allora la luce è diventata una certezza quando tu sei me lo so di traverso il vino sai quei momenti qui poi quando sei in metro ti viene da tossire vuoi dire tipo togli la mascherina non ho il covid però non lo puoi dire no non c'entra niente allora hai in tutto questo ci deve essere una bussola o dei punti di riferimento ci devono essere non per forza in questo chiamiamolo vita a caso vita casuale scelte casuali percorso casuale che poi alla fine è anche un po' quello che ti fa imparare capire cosa puoi fare dove puoi arrivare cioè ci devi passare non è che poi uno nasce imparato capito e quindi hai dei punti di riferimento dei paletti dei cartelli che sono quelle certezze che ti accompagnano comunque soprattutto da sempre che non vengono mai cambiate mai 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 messi in discussione mai ma quelle neanche quando avrai 90 anni esatto quindi tu dici ok saranno anche le certezze dei tuoi figli dei tuoi nipoti dei figli dei tuoi figli vabbè è la stessa cosa però dei miei figli e è un po' speriamo eh che rimangano certezze anche per loro perché se no siamo assolutamente cioè vuol dire che sarei una nonna orribile se queste certezze mi venissero tolte da sotto magari iniziamo a mangiare tipo barrettine snack di scarafaggi e elimineranno tutto ma questa non l'ho capita spiega no perché una delle nostre certezze ad esempio nel cibo certezze cibo esatto certezze cibo certezze non non come si dice rompi eliminabili cioè che tu ti svegli è una giornata di merda e dici io oggi non ce la faccio cioè non ce la faccio non ce la voglio andare a lavoro non voglio fare sono stanco voglio stare sul divano non ho voglia ma sai che il pacchetto di gocce che hai nel cassetto è lì nel comò nella credenza della tua cucina è lì ogni volta e non può finire e non può finire e non può essere eliminato eliminato non è sostituito cioè per quante tipologie di gocciole facciano nella storia e le gocciole integrali le vuoi provare provale e le gocciole al cocco le vuoi provare perché no provale le gocciole extra dark che comunque ogni tanto c'è una settimana che devono essere mangiate però tu sei consapevole che le gocciole sono lì sono lì quindi ti svegli male come i kinder i kinder no è per quello che facevo il paragone prima magari i nostri figli dei nostri figli mangeranno queste barrette energetiche fatte di scarafaggi no il lovetto kinder invece che magari avranno il gusto del kinder ma sarà una cosa diversa però non credo le certezze le certezze rimangono certezze allora io dico cioè esatto lovetti kinder uh abbiamo un ospite buongiorno buongiorno Alice ma Margherita Cimenti è sdraiata sotto Alice Niccoli detta la twerk del circle avvocato avvocato twerkatrice del circle stiamo parlando di certezze che si hanno a questa età in cui cioè tu sei sbarellato in una vita che non ha certezze ma ce ne sono quelle fisse ad esempio stavamo ora facendo un po' un excursus sulle certezze di food food certezze e l'ovetto kinder per quanto le sorprese dell'ovetto kinder cambino quindi non sono più quelle belle di una volta ma sono cioè delle cose come si dice cioè non so che sorprese ci sono oggi anche perché non ti ricordi che andavano a farle fare i nostri compagni di università salutiamo Beccio anche Riccanci mira le facevano loro dovevano fare i modellini ci mettiamo in mani a loro no capito però sai che il cioccolato dell'ovetto kinder quello è quello rimane è una certezza cioè il giorno in cui andrai in un supermercato in cassa non ci sarà più l'ovetto kinder a quel punto inizi a farti delle domande dire ma in che mondo sto vivendo mentre per il resto vabbè la tua vita va allo sbaraglio completamente ma se in cassa di fianco alle cicche c'è l'ovetto kinder e le ricariche della team o della wind sono ancora sul pianeta terra devo dire che può andare tutto bene questa è una certezza i nuggets anche i nuggets i chicken nuggets che buoni mcdonald's sì però alla fine ogni volta inventano sti panini che non si capisce niente mettono dentro delle cose un panino dello chef stellato ma zio se è uno chef stellato non lo fai in uno scantinato con sotto i topi e l'olio che frigge che è stato fritto da tre giorni quindi chicken nuggets però che sono stati fatti esattamente nello stesso modo ma io dico che per quanto ci sono queste cose adesso sembra davvero mia nonna il delivery il delivery quindi vuoi un hamburger prendi il burger prendi questo prendi quello il poké c'è questa roba che non mi fate parlare di poké che mi sta sul cazzo in una maniera cioè mi scaldo non me ne frega niente di niente in questa vita ma il poké quando mi diceva andiamo a mangiare il poké ma che cosa vuol dire il poké te lo prendi al posto di un insalata vuoi un insalata a pranzo ti prendi il poké se lo vuoi poké è più appuntamento un po' da radical chic sfigato che lavora in centro questo a di Nicoli qua presente a di Nicoli alza la mano comunque quindi vuol dire che ha avuto un'esperienza di poké sfigato con un radical chic sfigato 20 rolli a pranzo per un poké c'è capito due fagiò due damame no io questa cosa il riso bianco il riso venero invece puoi scegliere la base aspetta un attimo piatto ricco mincifico però a prescindere da tutte queste cose che ci stanno bombardando prova questo prova quello prova quello qual è la certezza i chicken nuggets del mcdonald perché tu quando si svegli hai voglia di quelli non c'è nient'altro che li possa sostituire quando ti svegli quando ti svegli sabato marcio alle 2 di pomeriggio alle 8 del mattino stai per andare a lavorare ti viene un'improvvisa voglia di mcdonald's e quindi decidi andare al mcdonald's sotto casa e prendi chicken nuggets alle 9 del mattino così poi rutti in faccia di costanza che ricordiamo tutti il suo piatto forte a qualunque ora del giorno ma a qualunque quindi non ora di pranzo sono i wuster crudi no ma che crudi cotti ah bolliti ah quello ero io direttamente dal frigo wuster sottiletta e il pranzo è fatto no una volta è successo e poi è diventata questa cosa perché è sconvolgente no sono ma anche quella è una certezza cioè il punto che secondo me quando vai quando vivi con i tuoi genitori hai delle cose fisse nel frigo anche quella è una certezza è che tu apri il frigo e sai che se vuoi schimicare o se vuoi mangiare se hai una fame atomica c'è qualcosa meh no non per me neanche per me in generale nella vita in generale nel mio caso mia mamma già seitan tofu miso di riso miso di riso è riso di miso no allora vabbè frigo no certezza abbiamo capito che sono poche le persone forse sono solo le persone certezza che allora sono quelle che hanno anche il frigo con le certezze però quella è un'altra categoria di cui nessuno di noi fa parte mi sembra di capire altra cosa certezza food questa però cambia questa cambia secondo me con l'età e anche qua è un po' che dicevo quando inizio a cambiare idea su questa cosa forse sto cambiando stile di vita pandoro panettone non siamo sotto Natale ma io dico che se tu sei sempre stato fan del pandoro io pandoro tutta team pandoro ok da sempre cioè il panettone cosa ha le uvette ma le uvette e i canditi cioè ve le potete mettere nel vostro piatto a un certo punto eh in un altro posto in quel piatto nel vostro piatto nel vostro posto in quel piatto un po' così a un certo punto a una certa età ti danno una fetta di panettone e tu la mangi lo stesso e fai oh no cosa sono maturata o sono solo cresciuta io non sono d'accordo cioè tu io fino a quando sono nata da quando avevo tre mesi ho iniziato a mangiare il panettone senza uvette e senza canditi vabbè ma quello non vuol dire panettone cioè quello vuol dire vabbè eh sì la pasta è molto più buona no allora io chiedo pandoro o panettone tradizionale non ah sì mi piace la carbonara però senza uovo e con un po' di pomodoro cioè che cazzo vuol dire Coco dai su eh cioè se sei timpanettone sei timpanettone timpanettone da sempre con uvette canditi di scarto tu quando mangi l'anguria togli i noccioli i nocciolini certo vabbè tutti sono tanti da togliere ma io li tolgo tutti e poi me li mangio non li riesco neanche a sputare cioè ma io tolgo anche le noccioline dentro l'uva anch'io anche quella le noccioline dentro l'uva cosa sì le noccioline dentro l'uva le noccioline non hanno le cose perché ah ok i mandarini non mi piacciono vabbè se ce ne sono cento e uno riesce a sputarlo no ma scusa l'uva non riesco non so la mia lingua non riesce a no scusate no 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 aspetta ok tu tagli l'uva col coltello togli i nocciolini ma scusami però posso cioè non mangiare l'uva prendi un altro cioè è più sbatti mangiarla così no l'uva senza semina l'uva americana raga è buonissima beh anche l'anguria senza semi sì esiste sì esiste sono quelle piccoline sì quelle che hai creato in laboratorio esatto no vabbè secondo me questa forse è la certezza al contrario cioè che quando smetti di togliere se di tagliare l'uva col coltello forse sei cresciuta cioè mi viene da dire questo la mela la sbucci la mela la sbuccio e tolgo la mela la sbucci la mela la sbucci e tolgo la buccia no non ci credo questo lo diciamo ad alta voce perché non sentite Alice Niccoli che sta dicendo che la frutta l'uva sbucci sua va tutta tutta un premio al papà di Ali perché ha una pazienza incredibile ma cosa vuol dire che qualcuno vi sbuccia la frutta io questa cosa non l'ho mai sentita io sono un frutto anche Fedo ogni tanto lo fa il kiwi che ti sbuccia no che lui magari se la sbuccia per sé e ha magari più fette di mela e me ne porge una già sbucciata no io dico se tu sei uno schizzinoso e ti vuoi rompere e sfracassare le palle sul fatto di sbucciarti la frutta e quindi c'è praticamente non te la godi perché c'è allora mangia una focaccia e fai prima c'è molto più gustosa se ma qualcun altro che te la sbucci è molto amorevole tuo papà molto amorevole però siamo viziati eh siamo molto viziati a proposito di certezze certezze in amore non abbiamo pensato anche quella dei genitori no di certezze di amore dei genitori secondo me secondo me ecco questa è proprio la certezza che non c'è c'è no però ci sono invece a proposito d'amore quelle coppie storiche che proprio non quelle incredibile che tu dici raga posso dire una cosa ancora può essere una giornataccia può essere che io sto può essere che esco a pranzo con una mia amica questa prende il pochè poi mi dice devo sbucciare una mela cioè tutto quanto può andare a rotoli ma se Barack e Michelle Obama stanno still together allora it's a beautiful life cioè allora è una bomba capito perché loro sono cioè devi avere un modello a cui aspirare oggi abbiamo visto una loro foto avevamo tipo 20 anni davanti all'albero e si amano ancora ma si amano ma io mi ricordo i suoi discorsi di lui quando poi guardava lei con questo sguardo che neanche nei film neanche nei film che guarda lui che la guarda con questo ah mi è venuta in mente un'altra coppia ho visto Penelope Cruz e Avie Bardem esatto brava lui il discorso incredibile che ha fatto quando ha ritirato il premio non mi ricordo aveva il gobbo comunque sì vabbè il gobbo però sua moglie l'ha ma un sacco l'ha detto davanti a tutti sì ovvio lei stava per piangere lo so ma il punto di queste cose che amo e rispetto ogni giorno secondo me il punto di queste che siano Penelope Cruz che siano cosa? che cliché che cliché ah non lo sento ma probabilmente sarà stato veramente il gobbo un po' cliché l'autore di Avie Bardem magari un po' ma non è quello il fatto cioè non è quanto tu faccia un discorso romantico per tua moglie il fatto che queste coppie cioè sono fighe da giovani quindi vent'anni fa e sono ancora più fighe adesso cioè è difficile il fatto che una coppia c'è capito aumenti di figaggine non è fa è questo cioè l'obiettivo della vita è aumentare di figaggine capito però è difficile a questo livello cioè venticinque anni fa stavo meglio al liceo cioè allora stavo meglio al liceo ma che cosa è? cioè non lo so cioè ti fai queste domande che dici devo dire università 20-21 sei proprio in carica c'è proprio di montagna russa che sale proprio dai vai vai arriverò arriverò a un certo punto discesa noi siamo negli anni della discesa no capito è meglio cioè bisogna aspirare a bisogna però non è facile ora banalità ovvio che Penelope Cruz non può essere era figa vent'anni è figa anche adesso vabbè JLo beh Angelina Jolie si è rovinata un sacco stiamo qui a commentare male Angelina Jolie Angelina Jolie è guardabile guarda c'è proprio non la posso vedere ma poi lei però mangia l'anguera con i semi sicuramente e nessuno ne sbuccia la mela no scusa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sì coppia devo dire molto forte cioè comunque puoi aumentare la difficoltà però coppia business più secondo me perché coppia d'amore secondo me c'è molta stima c'è molta stima che comunque è una bomba cioè l'amore è anche stima è affetto esatto adesso questa non diventerà appuntata sull'amore che qua di esperti non ce ne sono però anche tu Costanza volevo entrare sul personale assolutamente no però no abbiamo anche delle tu avevi un avevamo delle coppie storiche ma scorriamo e vediamo se quanto siamo abbiamo anche nominato Beyoncé Jay-Z Beyoncé Jay-Z esatto hanno avuto un momento di tradimento cioè lui con lei sapevo lei ci ha fatto un album ragazzi io non sono molto aggiornata su queste cose moderne perché all'uni tu stavi facendo la scalata noi invece guardavamo oh zio ma Beyoncé come cazzo dai te lo dire Beyoncé sei pazzo Beckham e Victoria sì è vero loro bellissimi se li segui su Instagram tutti i figli si amano i figli belli cioè tutti i figli cioè il figlio forse si è sposato addirittura vero comunque è molto innamorato può essere ma si sposano tutti oh giovanissimi cioè la mia età no che ridere quanti anni quanti anni ha il Bieber cioè un anno in meno di noi hai capito eh lei è 95 lei è 95 lei sarà 97 no 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 ora vado a vedere Valinick vabbè altre coppie che proprio stanno spaccando vabbè tanti ma in realtà le coppie che stanno insieme non sono così cioè sono famous ma uno dei due è del 96 96 vedi eccoci ma ha già un bambino però no sì ok c'hai capito lei ha ha un anno in meno di me ha già un bambino io ho un anno in più di lei non ho neanche un lavoro oh sarà Jessica Parker e il suo bel marito Matthew Broderick si dice vabbè anche lui che era un attore strafigo a 20 anni ha fatto una serie di film top certezza Sex and the City lei certezza anche fuori cioè anzi in Sex and the City zero certezze ci dava questa donna mamma mia ogni puntata un'ansia si lascia si mette la moda l'articolo le amiche la moda la moda quindi forse la certezza la non certezza sul lavoro lavoro dà la certezza in amore in amore non lo so secondo me no secondo me no non funziona così no secondo me no ok qui ci sono proprio quelli sfigati e quelli fortunatissimi allora ah qualcuno ci scrive la chat allora nephilim scrive io faccina non so a cosa si è riferito ma sappiamo che sei in questo tipo delle non certezze 25 anni la merda io anche io mi faccio sbucciare la mela da papà Kurt e Courtney ah ok loro non stanno esattamente insieme sorry no vabbè amo Kurt e Courtney aiutaci su questo trash di Kardashian si sono appena mollati ecco vedi anche questa a zero certezza beh raga di The Last Song il secondo film più bello di Anna Montana il terzo film più bello di Anna Montana dopo l'olpass del mio migliore amico Anna Montana dei movie e poi The Last Song comunque capolavoro e anche lì c'è gente di Stru per terra gente nuda che manifestava io in balcone non l'ho visto no queste sono le reazioni della gente alla loro separazione e beh queste sono certezze che non abbiamo più no noi stiamo parlando di certezze che ci fanno stare sereni nella vita ad esempio certezza film siamo film certezza Harry Potter certezza Harry Potter stai male te lo guardi sì non cambierà mai non ci sarà mai un film sui maghi più bello di Harry Potter ok se qualcuno ha detto di farlo me lo giovi a coltello vivi film Disney cioè possono uscire tutti i cartoni ah che bello Luca che va al mare Liguria che bello disincanto ma che cazzo me ne frega cioè voglio guardare Mulan voglio guardare Hercules Sir Leone cioè Cenerentola Bambi tu guarda io non guardo mai Bambi bellissima ma cosa bellissima raccontami te la ricordi certo lui che viene ucciso no Coco no perché quando sto male guardo lui che perde lui che perde la mamma questo è l'inizio e fin qua ci siamo tutti poi io non l'ho guardata perché oggi ti vai Bambi e Dumbo beh anche Dumbo 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 è tosto Dumbo è una certezza che non fa bene Dumbo è vero però comunque una certezza la Sir Leone è una certezza è vero perché lei anche Toy Story Toy Story una serie di cose per cui tu dici io finché questi cartoni ci sono ormai su Disney Plus perché i miei videocassette non vanno più io sto serena perché posso guardarli capire il senso della vita ti insegnano la vita quei cartoni tu hai un dubbio lavorativo in amore in amicizia guardi un qualunque cartone Disney soluzione me ne vado me ne vado dov'è il mio principio no però no sono altre certezze che ci fanno stare sereni ecco ne abbiamo detto un po' e il problema è quando le certezze ci abbandonano sì ci sono tante certezze che ci abbandonano e più andiamo avanti con l'età e più non facciamola sulla vecchiaia no non è sulla vecchiaia è sul cambiare le proprie abitudini non avere più determinate cose che qualche anno fa davamo per scontate è quello tipo i tre mesi di vacanze estive anche se vabbè io quest'anno ne ho fatti tipo cinque ne ho fatti cinque quest'anno però è l'ansietta perché tutte le persone intorno a te lavorano esatto allora io voglio focalizzarmi su quell'estate orribile che tutti hanno avuto quell'estate quell'estate che sai tu ti ricordi ah l'estate il mare c'è la festa così perché non ti frega niente di organizzare perché finisci il liceo o l'università a giugno e la riprendi a settembre ottobre e quindi non è che ti devi organizzare o questo giorno o questo giorno c'hai tre mesi vai un po' qua un po' là un po' di lì un po' ti abbronzo un po' no cioè se arrivi a settembre sei una dea capito hai passato a Milano tipo quattro giorni per fare le valigie cambiarle ma puoi anche passarne dieci di giorni a Milano perché tanto hai altri due mesi e venti giorni c'è un botto di tempo devi studiare per gli esami vabbè c'è l'università poi d'esami io da Dio cioè poi capito magari qualche facoltà ti faccia studiare un po' di più scelta tua va benissimo però quell'estate in cui da tre mesi tre mesi si passa tre settimane barra slash due troppo ridere oh che ferie prendi che ferie prendi non lo so devo sentire tutti i miei amici le vacanze poi che belle erano le vacanze a giugno che non c'era nessuno nessuno ora le ferie nel senso che comunque l'agosto non sono più vacanze sono ferie diverso diverso proprio una parola che non voglio sentire invece si si sente e durano cioè pochissimo né la metà né un terzo cioè proprio un'altra vita e questa è una di quelle certezze che ti è stata tolta perché tu tutto l'anno dai l'anima per insomma vivere fare della tua vita un'opera d'arte e poi arrivi ai tre settimane di merda cioè ma dai ma basta e ti vivi con l'ansia perché dici ah cazzo sono tre settimane poi devo ritornare e poi dove vai in Puglia mi conosco cioè ma ma scusa ma di cosa stiamo parlando ok poi ti svegli un giorno hai trent'anni no ancora no vabbè questa è una certezza che c'è stata tolta la viviamo male? sì sì malissimo vero abbiamo qua un esempio Alice Niccoli qua davanti di ragazza che vive male le vacanze che da gennaio comincia a scriverti cosa facciamo quest'estate è finito capodanno e adesso che ferie hai? ma che ne sono se neanche che lavoro faccio cioè non idea no vabbè perché bla 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 ti inseriscono i gruppi whatsapp delle vacanze ti mandano un iban devi mandare dei soldi così va anche bene fai sai cosa io non ho la forza di organizzarmi non ce l'ho non me ne frega niente se mi date un iban do i soldi arrivo a un certo punto avrò un aereo o una macchina o un trattore ti abbiamo iscritto un corso di coltivazione cioè no va bene se ci sono dei ragazzi a petto nudo lo faccio volentieri un po' così vabbè cambiano le priorità dei datori di lavoro non due sicuramente altra cosa che è un po' la certezza che ti è stata tolta che con il fatto che insomma eri un po' più libero su alcune cose ti credevi anche molto di più le serate e quindi l'after cioè io eri tranquillissima nel farmi serata after il giorno dopo ma il giorno dopo scuola il fiore io mi ricordo un giorno che sono arrivata a scuola con un autografo su tutto il braccio scritto auki era estate interrogata la prof ma perché hai scritto su braccio a cochi cochi niente proprio lasciamo stare grazie ero stata in magazzino generale e mi stavo addio mi sono fatta autografare il cover del cellulare le tette e ho detto vabbè dai senti sai cosa il braccio era bellissimo il giorno dopo eri un fiore una coca cola e tornavi a ballare anche il giorno dopo assolutamente certo tra serate il venerdì disghiamo il sabato a scuola il sabato sera era una una vita fantastica ma non perché anzi ora che hai la possibilità di farlo in realtà non riesci a farlo e questa cosa è devastante cioè no sono stanca vado a casa cosa eh sì cioè non avresti mai pensato di dirlo e invece lo dici Marghe ciao ciao ti sei persa il migliore della puntata ma comunque non importa no è un po' quella cosa che carina anche lo dice che carina è vero comunque tutto questo after è una certezza che ci è stata tolta la capacità di fare molte cose ed essere bravi essere sul pezzo il giorno dopo perché ora se vai al lavoro ma anche all'inizio quando ho iniziato a lavorare io ce la facevo benissimo quindi ho detto vabbè se ce la faccio adesso ce la farò anche fra tre anni non è che cambia tanto lavoro lo stesso no no questa sera sto a casa a guardare un filmetto sei proprio devastata beh no non posso vomitare no ah Margherita questa sera sto a casa a farmi un bagno caldo un bagno caldo eh sì posso dire il lunedì sera viene a ballare no un bagno caldo un bagno caldo un'ora di yoga io facevo 800 sport un'ora di yoga sono stanchissima un gin tonic no una camomilla una camomilla no camomilla ancora no il gin tonic comunque va sempre bene possiamo dirlo eccomici che McNuggets è un'altra certezza cioè colazione mattino pranzo quello che vuoi il gin tonic va il gin tonic e McNuggets una volta li ho provati insieme non è stata una notte piacevole devo dire me la ricordo ancora dramma cioè non lo fate mai mai e beh altre certezze che ci sono state tolte che c'è sì certezze che ci vanno negli sbatti tolte che ci fanno ci abbandonano relazioni quello che volevi spensieratezza delle relazioni secondo me a vent'anni sei consapevole che dopo un mese due mesi massimo un anno che comunque è tanto è tanto torni singola vent'anni è un po' quella cosa ti limoni ci piacciamo sì adesso ti limoni e stiamo già insieme ma quando è che vuoi sposarti capito no beh dai quando eri piccolino e ti innamoravi di uno ti fantasticavi già una vita incredibile questa cosa non so se ti ha lasciato ancora tuttora secondo me cioè beh no però ora appunto ora invece si vivono le relazioni con consapevolezza dipende beh allora abbiamo detto la diciamo questa cosa delle relazioni sì sì secondo me è ok secondo me nessuno è in grado di affrontare questa cosa nell'una e nell'altro senso beh io volevo inserire anche l'argomento cioè ci viviamo le relazioni con consapevolezza mi sembra proprio la frase che nessuna delle due può dire però vabbè la rischiamo vabbè ma perché io ho qualche oh non abbiamo più vent'anni vai vai no no ma neanche al matrimonio io non vedo l'ora che ci sia il mio matrimonio anch'io perché io non so che c'è un drà il mio o il tuo entrambi egocentrica entrambi il mio oh non lo fare nel giorno del mio matrimonio Costanza che te lo giuro lo facciamo insieme no che trashata beh ti ricordi il quel programma quel programma che c'era su vorrebbe ridere quattro matrimoni eh e praticamente era c'erano quattro spose ed era tutto un programma trash ovviamente su dei matrimoni e tu sceglievi quello più bello poi c'erano come cortesi per gli ospiti come quattro ristoranti che ognuno andava al matrimonio degli altri e poi votava però la presentazione faceva molto ridere c'era una sposa che diceva io farò un matrimonio molto tradizionale e l'unica cosa che non vorrei mai fare è un matrimonio su una barca sposa numero due il mio matrimonio sarà su una barca e il matrimonio tradizionale mi fanno schivo tutto così era bellissimo ho capito mamma mia ho un budget bassissimo per questo matrimonio ho deciso che le bomboniere saranno degli sguardi felici ai miei ospiti queste serie di plastica trovate nella discarica proprio qua di fianco che ancora non hanno bonificato ma comunque lo faranno quindi la location sarà sempre questa un sacco della spazzatura bianco però giallo che bianco ancora non c'è quello della plasma lo metto fantastico amore ti amo vabbè per dire no matrimonio stesso giorno no ok questo è vabbè e bambino stesso anno? assolutamente sì figo quello assolutamente sì quello figo sì sarà difficile bello fai anche le vacanze di famiglia con i bambini in comune cioè non in comune no no infatti vacanze di famiglia con i bambini in comune no e questo è un pensiero in generale perché quando fai i bambini se hai degli amici della stessa età i bambini li metti tutti insieme in una stanza truc e tu puoi fare le stesse cose che facevi a vent'anni prendi una babysitter e la usi per tutti risparmi santa donna che poi sei tu a vent'anni dici dai ma ce la fai adesso vai alla babysitter poi fai after poi domani vai al lavoro ce la fai benissimo perché io ce la facevo vabbè si è trasformata in una puntata sulla vecchia no dai abbiamo solo un po' raccontato certezze incertezze la domanda è ce la faremo? no no che ci frega basta cosa devi fare tanto? niente io niente tu niente oggi eri presa suonare la chitarra no è un cazzo da fare no ma tu sei proprio nella crisi dei 50 non dei 25 ho pensato che suonare potrebbe rendermi un po' più quanto hai suonato in termini di minuti 40 minuti non ci credo mai te lo giuro 40 minuti sto imparando una nuova canzone canzone del sole la so fare anch'io no quale? accordini? no è una canzone classica si chiama giochi proibiti la suonerai al tuo uomo nuda questa si chiama giochi proibiti davvero vi ho la voglia di beh ma è una canzone bellissima di musica classica ragazzi musica classica nel senso che non è io oh 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 se oh oh ci sono due generi musicali nel mondo lo io e classico e non è neanche non è neanche rock tipo non è neanche lirica rap rap l'ho fatto prima ma quello è hip hop trap trap è pie ma gli occhi appena arrivato è entrato è finito no scusa questa è sigla di quelli dell'intervallo questo è trap questo è trap trap è più stiamo finendo così questo altro classico è di aristogatti poi vai no mi piace vai vai no secondo me mi piace no anche a me piace sta piacendo comunque io concluderei così con la certezza aristogatti il cartone più bello bellissimo bellissimo incredibile abbiamo appena citato suonandolo do mi sol do do sol mi do questa che musica è classica classica vabbè basta concluderei con il fatto che quando una certezza ti viene tolta può anche tornare bacio di erosana mazzotti michelle munziker l'hai visto? sì l'ho visto sì però sai cosa? non lo so ma l'ho trovata un po' così lei si è appena lasciata c'ha una figlia oddio sempre sta cosa i miei genitori sono separati mia mamma ho fatto altri figli così e ho il bacio che bello la vita guarda diamo un messaggio di speranza non lo so io ti dico solo che io l'odio ma come l'odio? l'odio? fuoco nel fuoco fuoco nel fuoco l'abbiamo persa no non ce la faccio sentire la sua voce sembra che si sia messa tipo due tamponi nel naso per il covid e ha iniziato a cantare però la cantava e l'elementare ti piaceva? no amor mi ha sempre fatto schifo davvero? però le sai? no poi è antipatico più bella cosa magari qualcuno conosce sta ascoltando aspetta che se qualcuno sta ascoltando io smette subito perché ha sentito cocco che non piace vabbè allora niente volevo finire la sua romantica no finiamola così con te che canti mi sembra comunque una gran bella fine viva gli aristogatti viva gli aristogatti va bene grazie e finiamo ciao a tutti baci terminiamo? no è termine prima che rinizi a cantare sei sicuro di voler interrompere la cosa diretta? mai stato così sicura grazie 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 grazie